benvenuti a occhio ai giornali di oggi mercoledì 14 ottobre 2020 sul canale 17 c'è un'informazione che si apre alle 7 del mattino in diretta sul canale 17 del digitale terrestre buongiorno a tutti voi ancora cari telespettatori di fano tv cominciamo subito la nostra rassegna con lo sguardo al calendario del giorno il santo e poi il tempo oggi è san callisto primo il sole sorgerà è questo il termine che non mi vedeva stamattina sorgerà alle 7 e 24 e tramonterà 18 e 29 allora il tempo vediamo il tempo con l'aiuto della grafica della protezione civile delle marche avremo cielo al mattino irregolarmente nuvoloso sui settori interni è sereno poco nuvoloso invece lungo la fascia costiera avremo ancora precipitazioni deboli locali rovesci sui settori montani durante la mattinata poi nel pomeriggio si intensificherà la pioggia anche verso la fascia collinare la fascia costiera centro settentrionale però nel corso della serata le temperature mass minime sono in calo allora giovedì domani 15 ottobre ancora pioggia vedete su tutta la regione al mattino soprattutto rovesci diffusi in transito sui settori occidentali verso la fascia costiera localmente qualche fenomeno convettivo potrà risultare di forte intensità precipitazioni in esaurimento poi dalla tarda mattinata per la giornata di venerdì ancora cielo irregolarmente nuvoloso con locali rovesci che come si può vedere da questa cartina geografica animata saranno nel pesarese nella parte sud della regione e nella parte centrale montana il fine settimana sarà comunque caratterizzato da tempo stabile oggi passa il giro d'italia passa il giro d'italia e dunque avremo dalle 10 e 30 di questa mattina fino alle 3 del pomeriggio strade soprattutto la statale completamente chiusa e dunque fate attenzione fate i vostri conti se dovete uscire se dovete spostarvi calcolate anche possibili ritardi per quanto riguarda gli spostamenti perché ci sono chiaramente le chiusure riguardano pesero fano riguardano anche senigallia insomma c'è una tappa quella di oggi che arriverà fino a rimini partendo dal sud delle marche di questo parlano naturalmente i giornali ma parlano anche di un colpo di scena nella giunta regionale che tra poco vedremo intanto è il giorno del giro statale chiusa questo è il titolo d'apertura del resto del carlino pesero e fano attraversate dalla carovana adriatica sbarrata dalle 11 e 15 alle 15 le scuole cambiano orari intanto giunta sempre più un rebus pressioni da forza italia per un assessorato ad aguzzi fumata nera dalla riunione di roma con acquaroli anche se il corriere pare essere più informato a questo punto e da per scontato alcuni passaggi che tra poco vedremo nel dettaglio la rabbia del dei ristoratori sul coprifuoco previsto dal nuovo dpcm chiudere le 24 per noi l'ultima mazzata il virus a scuola alla padalino affano studenti positivi noi genitori avvertiti tardi e poi lo spaccio era un affare di famiglia carabinieri in azione a valle foglia arrestati padre figlio smerciavano fino a quattro etti di droga a settimana il duello primario querela la dirigente della sanità di furia accusò morabito di aver detto falsità lui la denuncia per diffamazione ed altri reati ecco qua il titolo del corriere adriatico direzione di pesero giunta entrano latini e aguzzi e quello che diciamo è il colpo di scena è sicuramente latini ma vedremo poi nel dettaglio la lega sacrifica la tisi e sceglie la deputata scolana in quota ancona l'ex sindaco di fano il cavallo di forza italia gli altri quattro assessori regionali carloni vicepresidente castelli saltamartini che avrà la madre di tutte le deleghe cioè quello la sacola la sanità e poi francesco baldelli a centro pagina cancellato il terzo turno di lavoro a causa delle restrizioni rabbia degli operatori e poi tra scuola e famiglia ora il virus corre forte l'onda di autunno è montata senza travolgere le linee ospedaliere come era accaduto nella fase 1 ma ieri c'è stata un'impennata preoccupante dei ricoveri da 55 a 66 anche se i pazienti in terapia intensiva sono 6 ad alimentare questa curva dell'epidemia anche la filiera appunto scuola famiglia sulle sempre sulla prima pagina del corriere ciclabile di via fratti c'è l'ok definitivo alla cinta ecologica passa il giro ma senza spettatori dietro alla carovana e poi a urbino esplode la polemica sulle parole di sgarbi smantellata la rete di spaccio due in manette e 10 denunce da un anno il gruppo riforniva pesaro e vale foglia sequestrati cocaina e denaro per oltre 5 mila euro due arresti dunque 10 denunce per droga una raffica di perquisizioni una rete di spaccio con epicentro a montecchio ma diramazioni a pesaro e nell'urbinate un gruppo che da oltre un anno riforniva il territorio ed è ora stato scardinato dai carabinieri ancora la cronaca con richiamo in prima pagina della notizia che troverete all'interno pedinava e minacciava l'ex moglie adesso è finito a processo dunque le pagine interne pagina 6 del carlino fanno passa la carovana show e disagi titolo dalle 10 e 45 alle 15 e 30 adriatica sbarrata zone di sosta vietata e percorsi alternativi confermato il mercato gli istituti invece aperti o chiusi insomma ha in ordine sparso pesaro il giorno del giro scuole e bus si organizzano statale chiusa da sud al ponte sul foglia tra le 11 e 15 e le 15 atteso per le 14 e 30 il passaggio dei corridori in città pesaro uscite anticipate per alcuni istituti scolastici mezzi di adriabus collegheranno invece le due città deviando per santa maria dell'arzilla poi c'è stata una cerimonia la partenza ci sarà una cerimonia la partenza della carovana premiati i poliziotti fanesi che nell'estate del 2019 bloccarono un tir guidato da un ubriaco in autostrada la politica con la giunta regionale che è informazione a guzzi e latini ecco le sorprese finali titolo del corriere adriatico pesaro tris è davvero clamoroso anche questo tre assessori pesaresi è una cosa che non si era mai non si era mai vista carloni il pacchetto economia a castelli sisma il bilancio martina marinangeli sul corriere adriatico scrive il colpo di scena che non ti aspetti che qualche tassello del puzzle potesse cambiare era nell'ordine delle cose ma che la deputata della lega giorgia latini parliamo di una deputata quindi che sta a montecitorio lasciasse il parlamento per entrare nella giunta acquaroli era oltre ogni pronostico allora fuori lanconetano dunque daniele silvetti dentro il sindaco di collier metauro ed ex del comune di fano stefano guzzi che con mirco carlone della lega e francesco valdelli di fratelli d'italia andrà a comporre un clamoroso trittico pesarese nella giunta marchigiana impresa non riuscita neppure all'era di ceriscioli che era di pesaro poi a sorpresa la lega ha calato il jolly con l'onorevole appunto latini che lascerebbe il suo incarico a montecitorio per un posto palazzo raffaello il suo nome andrebbe a sostituire quello della fermana daniela tisi circolato nei giorni scorsi per l'assessorato a cultura e turismo con latini in regione in parlamento attenzione si libererebbe uno scranno per mauro lucentini primo dei non eletti alle politiche nel 2018 nel collegio marchesud quindi questo mauro lucentini chiaramente è l'uomo che in parlamento farà un po da portavoce per tutta l'area del fermano per gli imprenditori che avevano per esempio fatto quadrato intorno a lui alla sua figura per fargli avere un assessorato non potendo per varie ragioni il puzzle gli incastri quant'altro hanno tolto latini hanno messo lui insomma fatto un giro un po alla politica politica l'arte dell'impossibile tra i forzisti si diceva alla fine a spuntarla è stato aguzzi rimasto fuori dall'emiciclo benché fosse l'azzurro di forza italia più votato a livello regionale ma rimasto fuori per uno scherzo come sappiamo del meccanismo dei resti a lui dovrebbe andare la tanto ad aguzzi la tanto ambita delega l'agricoltura sulla quale si stava profilando un pericoloso braccio di ferro tra lega e forza italia a carloni dicevamo invece andranno oltre alla vicepresidenza di giunta le attività produttive e l'internazionalizzazione andiamo a vedere in questo riquadro velocemente quali sono i volti e le deleghe che andranno a queste persone ora il numero due è Mirko Carlone e ha tutta la partita dei fondi europei fanese Carlone ha avuto subito l'assessorato in tasca sia insieme alla vicepresidenza della giunta è stato lui infatti il primo tra gli eletti nella lega partito più votato dopo il pd con 6827 voti un successo che lo ha fatto subito entrare di diritto nella rosa dei prossimi assessori regionali attorno alla sua figura sono ruotate anche tutte le deleghe possibili immaginabili e alla fine ha fatto strike vice di acquaroli sarà e assessore alle attività produttive più internazionalizzazione una delega pesante attorno a cui ruotano tutti i fondi europei a chi gli chiedeva poi come sarebbe andato a finire chiaramente lui diceva per scaramanzia preferisco non parlare ma alla fine sapeva che era in una botte di ferro poi c'è un'altra delega pesante che è la madre come avevamo detto prima di tutte le deleghe ovvero quella alla sanità che andrà a filippo salta martini lui è di cingoli paladino della battaglia per mantenere in vita l'ospedale cittadino per destino ha avuto proprio la delega la sanità lui tocca entrare in campo per giocare una delle partite più difficili nelle marche resa ancora più complicata dall'emergenza coronavirus dovrà rivedere il piano socio sanitario reimpostare tutto il discorso delle strutture ospedaliere dell'entroterra insomma un'impresa titanica ma come secondo eletto in quota legal e regionale ha ottenuto il pass per entrare in giunta e allo stesso tempo è stato ritenuto il migliore in squadra per occuparsi anima e corpo a questa delega non proprio alla portata di tutti poi andiamo a vedere velocemente le altre abbiamo anche questa è un'altra delega importante bilancio e terremoto guido castelli chi meglio di lui fra gli eletti del centrodestra nello specifico in fratelli d'italia avrebbe potuto concentrare nel suo assessorato una delega complicata come il bilancio e un'altra altrettanto ingarbugliata come la ricostruzione castelli varcherà la soglia di palazzo raffaello mettendo a disposizione dell'esecutivo la sua competenza in materia di numeri e la sua esperienza perché ha guidato per dieci anni il comune di ascoli piceno anche in questo caso la sua poltrona non è mai stata messa in discussione sia per il successo ottenuto alle urne sia per l'indiscussa preparazione che gli ha fatto guadagnare un posto di prestigio anche all'interno del lancio l'associazione nazionale dei comuni poi a proposito di pesarese abbiamo francesco baldelli che andrà probabilmente alle infrastrutture una delega che vale l'uscita dall'isolamento della regione durata a 50 anni baldelli anche lui ha avuto una marea di voti quasi 5.000 è stato eletto nella circoscrizione di peso rubino passa direttamente dal consiglio regionale alla giunta con una delega che l'appassiona da sempre le infrastrutture la sua battaglia l'abbiamo visto oltre alla sanità anche tutto quello che riguarda la fano grosseto e quant'altro poi c'è stefano guzzi come dicevamo l'esterno sempre in pista che seguirà l'agricoltura le aree da rilanciare e dunque il sindaco di colli al metauro terzo pesarese su sei della squadra di centrodestra in regione ieri sera è diventato ufficialmente assessore agricoltura e aree interne o infrastrutture erano le due deleghe che giravano attorno alla sua figura che da quando francesco cuaroli è stato eletto presidente entrava e usciva dalla rosa settimane alterne fino a 48 ore fa continuava a non figurare nello schema interno ai partiti del centrodestra poi ieri il colpo di scena finale fuori daniele silvetti che rappresentava ancona con forza italia dentro a guzzi a rinforzare la provincia di peso urbino poi turismo cultura e istruzione invece a giorgia latini come dicevamo la deputata l'onorevole della lega il suo nome è affiorato durante la maratona romana quella di cui abbiamo parlato ieri tra le segreterie del centrodestra e dunque 40 anni ex assessore alla cultura del comune di ascoli piceno pare che pare sia entrata di diritto nella trattativa per i suoi natali a fabriano e quindi potenzialmente espressione della provincia di ancona lei andranno le deleghe del turismo cultura e probabilmente anche l'istruzione poi ci sono i delusi chiaramente sulla pagina del corriere adriatico di questa mattina sono tre ciccioli leonardi e marcozzi consiglieri d'esperienza rimasti però solo a guardare intanto in consiglio entrano quattro riserve perché chiaramente quelli che andranno a ricoprire e avranno le deleghe quindi saranno assessori lasceranno per incompatibilità tra le cariche di assessore consigliere lasceranno l'aula del consiglio e dunque si libereranno dei posti dentro assenti menghi cancellieri e baiocchi ma è pronta la diffida per la giunta al maschile perché è per tutti quasi tutti uomini insomma intanto lunedì è fissata l'assemblea si elegge l'ufficio di presidenza gli uomini di francesco tra matterella meloni e l'emergenza comidi il governatore acquaroli ha sciolto il nodo dell'esecutivo a 22 giorni dalla sua elezione con un'ordinanza in mezzo che è quella che abbiamo visto nei giorni scorsi poi parliamo adesso invece di coronavirus andiamo a vedere la situazione perché anche nelle marche sta leggermente cambiando e purtroppo ma questo era nelle cose sta cambiando un po' in peggio ma sempre meglio rispetto ad altre regioni e speriamo di poter mantenere questo trend la filiera scuola famiglia moltiplicatore del virus in un mese 85 contagio avvenuti in classe ma poi ogni alunno positivo infetta uno o due parenti stretti impennata dei ricoveri per covid saliti da 55 a 66 ci sono sei persone in terapia intensiva che il 3,5 per cento del del picco ieri 82 nuovi positivi a rischio soprattutto in contatti a domicilio da inizio settembre si è passati da 18 a 73 contagi al giorno perché la gente fa fatica a capire che in casa sembra quasi una cosa imbarazzante io lo vedo anche nel mio piccolo ma insomma quando chiedo stiamo lontani stiamo distanti ma possibile siamo distanti anche in casa stiamo distanti uno sta sul divano l'altro stasera cerchiamo di come se fossimo tutti positivi trattiamoci e pensiamo come se fossimo tutti malati di covid o meglio tutti positivi non malati di covid tutti positivi ecco come se fossimo tutti portatori di questo di questo virus in modo tale che ecco ci comportiamo di conseguenza e non come se ma io non ce l'ho ma lui nemmeno ma l'altro nemmeno ma figurati se lui ce l'ha no se noi pensassimo tutti in questo modo come se fossimo tutti positivi saremmo tutti un po tranquilli tutti alla larga chiaro che poi se uno tutto positivo non c'è bisogno di stare tutti positivi però per dire insomma come se tutti potessimo contagiare l'altro quindi con la massima attenzione con la massima prudenza senza imbarazzarci di nulla siamo in emergenza allora classe con due positivi alla media padalino anche a casa i docenti di questa scuola un ragazzino di classe di una classe terza assente per malattia da giorni ha scoperto di avere il covid 19 l'altra diagnosi dai tamponi sui compagni poi eseguiti al drive di urbino con trasporti di gruppo e nel trasporto scolastico più potere anche ai controllori questo è importante anche perché sugli autobus abbiamo visto come molti sono comunque cioè il metro di distanza si va a far benedire come si dice e quindi è quasi impossibile da garantire la quarantena disposta dopo il secondo accertamento con rischi accresciuti all'istituto benelli invece in isolamento disposto per due gruppi di studenti di contatto anche se diciamo la scuola come dice anche il ministro azzolina insomma la scuola sta reggendo tutto sommato non al momento non sta creando tutti questi disagi anche il carlino scrive due casi alla padalino paura e rabbia protesta un genitore la scuola ci ha avvisati solo all'ultimo abbiamo dovuto fare le macchinate per andare ad urbino a fare i tamponi anche questo disagio cioè uno di fano che deve andare ad urbino fare i tamponi ma insomma l'undici ci hanno comunicato che eravamo in quarantena dall'otto però quindi con retroattività hanno però hanno saltato due giorni 8 9 10 11 3 giorni rifiuti la tassa si calcola in base alla co2 prodotta terre roveresche lo dice il sindaco sebastianelli poi attività chiusura e durante il lockdown ecco i contributi una manovrina da 60 mila euro a pergola approvata dalla giunta previsti anche sconti sulla tassa dei rifiuti cancellato di fatto il terzo turno di lavoro pub bar e birrerie sono i più penalizzati le associazioni già calcolano una perdita secca del 20 per cento delle entrate per i ristoranti danni meno gravi i gestori chiedono maggiore chiarezza sulla chiusura a mezzanotte prevede che i clienti siano già fuori dunque è chiaro che per i ristoranti se uno deve chiudere a mezzanotte poco male perché uno difficilmente va a mangiare a mezzanotte quando è le 10 ha già finito i pub invece il discorso cambia perché chi va al pub ovviamente ci va dopo cena quindi gli orari più o meno sono quelli e quindi sono un po i più penalizzati sarà necessario un cambio di mentalità sia degli operatori che dei fruitori perché resta anche il distanziamento e vorrà dire che al pub ci si andrà alle 10 a mezzanotte si va a dormire come giusto che sia e ora torniamo ad avere paura paura non del virus ma di chiudere i nostri locali e dunque dei nostri conti dei nostri bilanci della paura di chiudere definitivamente di restare senza lavoro perché questa è la paura più grande i gestori guardano avanti un nuovo lockdown però per noi sarebbe la la fine villa fastigi invece addirittura e indirittura d'arrivo un altro drive dove si potranno fare i tamponi ancora in fase di montaggio l'attenso struttura e il container contagio in regione pesaro però vedete che respira lunedì trovati solo cinque casi positivi quindi come potete capire anche perché pesaro ha già dato in questi termini pesaro è stata la provincia più colpita la provincia di pesaro urbino nella prima nella prima parte nella prima ondata quindi mettiamoci anche un po di immunità eccetera eccetera però insomma oppure proprio perché abbiamo avuto tanta paura tanta strizza adesso insomma stiamo lì un po più concentrati su quello che dobbiamo fare e non dobbiamo fare quindi evidentemente serve anche per rimanere distanziati e quindi evitare il contagio bar pub e ristorante anche il carlino titola è un'altra mazzata coprifuoco alle 24 e aperitivo solo al tavolo dalle 21 molti titolari sono preoccupati guadagni del weekend a picco ma qualcuno si adatta e quindi questo è conf commercio invece al polo un incontro di vari gestori il paso dice spiegheremo come comportarsi c'è il gruppo reka della conf commercio che alle 11 di questa mattina si incontrerà in un ristorante al ristorante polo pasta e pizza per fare il punto su come dovranno comportarci in virtù del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri un po lo strascico del covid anche questa storia ce l'ha morabito passa il contrattacco correlata alla dirigente della sanità dopo le dichiarazioni del chirurgo sulla scelta dei medici di lasciar vivere o morire pazienti covid eravamo nel marasma in quel periodo quando vennero dette queste cose insomma eravamo nel clou nel pieno dell'emergenza a un certo punto venne fuori questo questa dichiarazione la dottoressa di furia reagì con vemenza accusando il primario di affermare cose totalmente false il primario di neurochirurgia sottoposto anche a due procedimenti disciplinari poi archiviati e roberto damiani ripercorre un po questa vicenda che finisce ed è finita carte bollate a fanno invece corriere adriatico fanno che ha salutato il piccolo grande frate per l'addio due vescovi venti preti e una folla stiamo parlando di padre damiano angelelli per 74 anni custode del cimitero centrale di fanno aveva organizzato 120 viaggi di pellegrinaggio o culturali a lui si deve anche la tombola del patrono di fanno san paterniano la inventò eccetera insomma è stato davvero un piccolo grande uomo un piccolo grande religioso originario di cingoli entrato nell'anima della città ogni giorno confessava in basilica i due vescovi chi sono beh chiaramente l'ordinario di del luogo quindi armando trasarti e poi l'emerito di loreto giovanni tonucci poi sotto turismo spunti da operatori e sindaci oggi e domani il confronto la sala verdi con il consulente del comune joseph cordoglio per l'addio a mario del vecchio tutti ti conoscevano come una grande persona onesta e disponibile grande imprenditore ci hai insegnato tutto con queste parole pubblicate su facebook si è congedato dal padre mario deceduto all'età di 78 anni l'ex assessore comunale e attuale commissario provinciale dell'udici davide del vecchio regione la giunta parla fanese gli azzurri vogliono a guzzi siamo sulla pagina di fano del carlino dopo carlone baldelli forza italia fa il nome dell'ex sindaco e in una serata frenetica di consultazioni ma come vedete insomma ancona non ci sta qui ci sono due versioni il carlino e il corriere adriatico corriere adriatico che dà per scontato ormai l'ingresso in giunta di stefano guzzi e mentre ancora il carlino è un po più un pochettino un po più indietro il governatore coroli punta a dare rappresentanza a tutte le province ma come abbiamo visto insomma in questo caso fermo resterebbe resterebbe fuori ancora dalle pagine di fano del carlino si parla di tassa dei rifiuti latari le cartelle anomale andavano fermate così il sindaco seri ieri mattina nel corso dell'incontro con le associazioni di categoria la società esattrice ripeterà gli accertamenti papalini di confindustria dice stato fatto un passo avanti e con la nuova normativa saremo interpellati la ruggeri marta ruggeri dei 5 stelle va ad ancona come consigliera e dunque lascia un posto dando le dimissioni da consiglio comunale lascia il posto a giuliani ne parla anche il eccolo qua diffusamente il corriere adriatico l'avvocato giuliani in consiglio ridarà agibilità anche a bene comune subentra alla dimissionaria ruggeri sento dice lui la responsabilità di proseguire il buon lavoro fatto poi la cronaca ciclo motorista cade per paura di essere investito da un'auto all'incrocio l'episodio è accaduto tra le vie indipendenza e via 27 agosto a fano l'ingresso intanto di giuliani tornando alla notizia di prima l'ingresso in consiglio nel gruppo del momento 5 stelle per domani campo dei militari spogliatoi entro l'anno dopo l'esecuzione dei lavori l'impianto potrà essere adibito a gare ufficiali da senigallia restrizioni nei locali torna la consegna a domicilio con il virus che provoca ulteriori divieti molti negozianti si sono attivati per per evitare di ripetere ulteriore di perdere scusate ulteriore fatturato riattivando dunque il servizio a casa dunque le consegne a domicilio poi anche qui a senigallia passa la gara rosa pubblico vietato al giro d'italia possibile anzi modifiche a viabilità e trasporti una ciclista sempre senigallia finisce in ospedale un anziano investita strada il rischio a colpire la 63 nell'autista di un mezzo della raccolta dei rifiuti l'altro episodio invece è successo allo stadio a urbino invece il sisma è ormai un ricordo riapre la basilica l'arcivescovo di urbino urbani e sant'angelo in vado monsignor giovanni tani dice il giorno scelto è sabato 28 di novembre e parliamo di un della riapertura dopo quel terremoto del 2016 il vicario episcopale dice uno spazio che va oltre il tempo e appartiene al popoli al popolo andiamo sulla pagina adesso del dello sport fanno questione stadio la società prende tempo perplessità sul decreto governativo che prevede solo 300 tifosi allo stadio mancini il ds traini dice decisione che fa ridere troppe spese e pochi incassi i dirigenti potrebbero decidere di aprire i botteghini solo per i biglietti ieri presentate le squadre e poi sulla pagina 4 del resto del carino benelli verso la riapertura ma solo per gli abbonati il decreto governativo consente l'ingresso per il 15 per cento della capienza i 440 sostenitori che hanno acquistato la tessera hanno il posto garantito il portiere caso pugioni il portiere ufficialmente in permesso familiare ma non si allenerà per una settimana poi sull'altra pagina invece del resto del carlino è la foto notizia di apertura i campetti non li affittiamo più ultime partite di calcetto e di basket come hanno reagito le associazioni al decreto che proibisce praticamente una bella fascia di sport da contatto la csi dice gli operatori ad esempio non potranno più partecipare ai nostri tornei gli oratori non potranno più partecipare ai nostri tornei abbiamo scritto al ministro però questa è per essere sicuri di non essere multati prima del match hanno telefonato ai carabinieri dunque addio alla sfida tra amici alle partite di calcetto per la per la soddisfazione delle fidanzate che ogni ogni una volta alla settimana almeno devono devono arrabbiarsi con i propri compagni per la partita di calcetto adesso la partita di calcetto non c'è più quindi vi tocca stare con le fidanzate noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio ai giornali con occhio alla notizia occhio ai giornali invece torna domani adesso c'è la messa perché ci seguo in diretta dalla santa casa di loretto arrivederci ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti